La pausa natalizia non è fatale alle ragazze di coach Graziano e Feuli che si impongono con un secco 3-0 nel primo match del 2015 del campionato di Serie C femminile calabrese contro la Papermont Cartolerie di Gioiosa Ionica. Un match senza storia fatto salvo per il primo set dove la percentuale altissima di errori nel fondamentale della battuta delle ragazze della Di Diego fa sì che le Ioniche si tenessero aggrappate al set fino al 22-21 per le locali. Poi un break di tre punti con Catalano al servizio risolve il parziale finito 25-21. Il resto del match è stato poco più che un allenamento per le castrovilaresi che portano a casa gli altri due set con il punteggio eloquente di 25-18-25-9. Nella Papermont vende cara la pelle il capitano D'Agostino mentre nelle fila della Di Diego la solita Catalano che mette in evidenza non solo una intesa perfetta con l'opposto Biscardi a punto sistematico da posto 2 ma anche la capacità ormai riconosciuta di variare il gioco in maniera impeccabile anche quando la ricezione delle sue compagne non è perfetta. Buona prova anche delle due centrali VUIEVIC e Toscano e dell'inossidabile Wonder Woman Laurenzano. Ai nostri microfoni Coach Graziano. Coach Graziano un match vinto anche facilmente i primi due set la squadra ha sbagliato molto poi la superiorità tecnica era assolutamente visibile. Un 3-0 importante e questa squadra è capitata al momento giusto perché normalmente dopo Capodanno c'è sempre una flessione psicofisica della squadra invece la tua quest'oggi puoi essere contento? Le vacanze sono vacanze per tutte e per tutti quindi non lo so se anche loro hanno subito questo trauma anche se devo essere sincero noi durante tutte le vacanze natalizie abbiamo lavorato duramente però purtroppo come al solito un po' di febbre per qualcuno un po' di problemi a livello muscolare insomma purtroppo ancora non abbiamo risolto i nostri problemi fisici che ci perseguitano. Che io ricordi non abbiamo mai cominciato il campionato subito dopo Capodanno questa è una novità per noi però come hai detto tu era importante prendere questi tre punti con una squadra sulla carta tecnicamente inferiore a noi. Forse si è visto anche però purtroppo il primo set è stato un po' traumatico in quanto le ragazze erano abbastanza tese abbastanza contratte però poi alla fine abbiamo dimostrato che la nostra palla a volo è un po' diversa dalla loro quindi poi alla fine chi è più forte vince. La Toscano giovanissima, ricordiamolo sempre che ha solo 14 anni molto efficace nei primi tempi per quanto riguarda le azioni d'attacco però non è riuscita a contenere sulla diagonale gli attacchi della D'Agostino da posto 4 che l'ha infilata più di una volta è un problema proprio della Toscano coprire e mettere le mani in un certo modo sul muro sull'attacco da posto 4 o è in breve? È un problema di chi è troppo giovane, la D'Agostino è la numero 1, avrà 40 anni, lei ne ha 14, la differenza è enorme, lei è in palestra da almeno 25 anni, l'avversaria lei è in palestra da pochissimi anni quindi insomma si trova in un campionato di serie C dove le cose sono ben diverse rispetto a un campionato di seconda divisione che lei ha fatto l'anno scorso quindi la differenza è enorme però siamo qui per migliorare, il nostro obiettivo è questo e penso che lei ci stia riuscendo abbastanza bene anche se purtroppo lei è stata ferma un bel po' di tempo per un problema di un'infiammazione al tendine, allo sottospinoso quindi praticamente ha avuto dei problemi fisici anche lei quindi è in palestra da pochi giorni